buongiorno a tutti e benvenuti per il webinar naga markets d'analisi di mercato di questo 11 giugno prima di incominciare gentilmente se qualcuno conferma che riuscite a sentirmi e riuscite anche a vedere il mio schermo con il calendario economico naga markets così mi è sicuro che non ci siano problemi saluto quindi Flavio Marco buongiorno a te Marco ok grazie di aver confermato Matteo Patrizia Simone Federica grazie per averci raggiunto aspettiamo ancora un secondo perché so che altri stanno provando a collegarci Giacomo Alessandro Vittorio Sergio come al solito siete molto numerosi oggi vediamo un po' parliamo quindi come al solito calendario economico per la prima parte parliamo di quali sono i dati più importanti questa settimana quali sono potenzialmente i mercati dove vedremo volatilità e poi ovviamente la seconda parte che è quella che vi piace di più non c'è bisogno di dirmelo lo so la parte dell'analisi tecnica sui grafici con i livelli chiavi faremo anche un punto come al solito sull'analisi della settimana scorsa per vedere un po' cosa è successo perché ricordiamo che settimana scorsa non so se siete in tanti ad aver seguito un po' quello che è successo da un punto di vista dei dei dati ma c'è stato ci sono stati diversi discorsi di banche centrali e c'è stato soprattutto lo nfp di venerdì nfp che ha portato una rottura maggiore sull'euro dollaro al rialzo quindi eh c'è stato diciamo parecchio interesse su su questo nfp abbiamo visto molta volatilità e quindi ne parleremo più avanti lo vedremo queste queste diverse rotture su anche gli indici che hanno rotto al rialzo quindi sembra tutto ok e noi partiamo come al solito se ci sono domande se ci sono concetti che spiego che non vi sono chiari se ci sono prodotti anche che volete analizzati perché ovviamente io ho sempre il mio set di prodotto e di mercati che analizzo ogni settimana ma se ci sono alcuni prodotti dove voi tradate dove operate e dove io non faccio analisi al solito potete benissimo chiedermelo con la chat del webinar ok allora diamo un'occhiata subito a questo calendario economico per vedere cosa ci aspetta questa settimana per quindi martedì mercoledì giovedì venerdì per questi prossimi quattro giorni incluso oggi ricordo per chi non ha mai visto questo calendario economico per accedere basta andare su nagamarkets.eu strumenti calendario e poi settate il time cioè l'orario su quello vostro io sono gmt più due quindi sono in linea con l'orario italiano come al solito noi ci concentriamo solo sulle notizie rosse le notizie più importanti quelle che causeranno la maggiore volatilità sul mercato teoricamente allora per oggi vediamo subito che notizia rossa è già passata sulla sterlina alle dieci e mezza questa mattina e per il resto della giornata non c'è niente abbiamo una serie di dati arancione sulla sterlina ma niente di molto interessante per noi quindi domani 12 giugno mercoledì cosa abbiamo di interessante allora un dato rosso sul NZD di notte ma non niente di di veramente assurdo direi con questo dato delle vendite al dettaglio i pagamenti tramite carta elettronica cioè un dato per mercato retail per mercato della vendita al dettaglio ma niente di che però vediamo qua un dato arancione che ha la sua importanza e ha la sua importanza soprattutto nell'economia di oggi nel nostro mondo si tratta dell'inflazione in Cina è arancione ma questo dato potrebbe benissimo essere anche rosso è un dato di note quindi ovviamente dormiamo tutti e lo scopriremo la mattina se c'è stata volatilità o meno eh abbiamo anche un dato arancione in zona euro con questi non farmi in zona euro e poi il primo dato di importanza di questa settimana alle dici un quarto lo speech del nostro amico Mario Draghi presidente della Banca Centrale Europea quindi già questo mercoledì alle dieci un quarto qualcosa sull'euro succede con questo speech di Draghi continuando andando avanti abbiamo il solito inventario del petrolio stocchi di petrolio alle quattro e mezza di pomeriggio e poi basta così per mercoledì giovedì c'è un meeting dell'euro group tutto il giorno e abbiamo quindi di notte un dato rosso sull'australiano per chi tratta Audi e chi sveglio alle tre e mezza di notte quindi penso pochissime persone e abbiamo anche l'altro evento abbastanza interessante di questa settimana la decisione sui tassi di interessi sul Franco Svizzero quindi decisione sui tassi di interessi in Svizzera la SNB fa questa conferenza ovviamente conferenza stampa prima e vediamo un po' cosa succede sul Franco Svizzero se operate con cross in Franco Svizzero quindi euro Franco eh dollaro Franco Svizzero che sono cross che potete tradare ovviamente con Naga Markets magari date un'occhiata a questa decisione di tassi di interesse perché ricordo ogni decisione di tassi di interesse su una valuta causa sempre quasi una volatilità andando avanti niente per la giornata del giovedì venerdì finiremo quindi con mi sa che c'è ho visto una una qualcosa sulla sterlina eccolo qua quindi venerdì abbiamo vendita al dettaglio alle due e mezza in America quindi il dato del venerdì all'apertura del mercato americano sul appunto sul dollaro e poi l'evento direi il terzo evento abbastanza importante di questa settimana lo speech di Mark Carney Governor della Banca d'Inghilterra quindi abbiamo per riassumere penso che non c'è nient'altro ecco per riassumere c'è Mario Draghi decisione di tassi di interesse su Franco Svizzero l'inflazione in Cina l'abbiamo vista e ci sarà anche quindi il lo speech di Carni sulla sterlina per trader di GBP USD GBP Yen eccetera eccetera quindi non è la settimana che abbiamo avuto come c'è praticamente settimana scorsa con eventi ogni giorno eh decisione di tassi di interesse ogni giorno poi NFP e in fine settimana però tutto sommato abbiamo qualche evento rosso che possono eh causare un po' di volatilità sull'euro sterlina potenzialmente poi anche il dollaro passiamo subito quindi alla parte grafica non perdiamo tempo prendo la mia metatrader e cominciamo sempre con il solito euro dollaro ripeto vedete analizzo mercati che sono un po' su tutte le asset class mi concentro ovviamente sulla parte valutaria che è quella che piace di più ai nostri clienti ehm quindi cross maggiori analizzo cross che ritengo anche abbastanza interessanti da un punto di vista di analisi tecnica ad esempio NZD CAD molti mi chiedono perché analizzi NZD CAD è semplicemente perché NZD CAD e lo vedremo ancora eh questa settimana è un mercato molto molto pulito rispetta quasi sempre i livelli chiavi e quindi anche se un cross diciamo minore non è uno dei cross maggiori che avete non è un cross tra quelli più tradati però quando vedete un cross così dove è facile operare perché appunto rispetta tutti i livelli perché no ok vedremo più avanti ancora cosa ci ha fatto settimana scorsa ma ancora una volta NZD CAD ha rispettato precisamente i livelli da noi impostati quindi quando vediamo eh delle cose del genere ovviamente un cross dove vogliamo fare analisi perché è più semplice tradare su questi cross ma per cominciare quindi ehm concentriamo sull'euro dollaro euro dollaro settimana scorsa dicevamo dicevamo la prima resistenza e il livello chiave su questo euro dollaro è uno tredici zero zero era questa la resistenza ok? Allora abbiamo fatto due test della resistenza con due candele successive e dicevamo anche quindi il scenario preferito era shortare la resistenza perché siamo in trend ribassiste dicevamo se passiamo sopra questo livello di resistenza passiamo rialzisti a corto termine guardate cosa ha fatto l'euro dollaro quindi abbiamo avuto due test di candela quindi il primo test della resistenza crollo di 80 pips secondo test della resistenza eccolo qui reazione ancora ribassista ma ci siamo fermati un po' sotto quindi 28 pip 29 pip 30 pip poi nfp arrivando di venerdì rottura del livello di resistenza quindi adesso logicamente ripassiamo rialzisti a corto termine giusto? E quindi visto che siamo al rialzo a corto termine ma sempre ribassisti sul medio e lungo termine in settimana si possono cercare delle estensioni rialziste verso la prossima resistenza zona 1.1420 ok? Visto che abbiamo avuto la rottura di questa resistenza diventa un supporto per future estensioni rialziste quindi il scenario è rottura pullback ok? Che abbiamo già fatto praticamente pullback l'abbiamo fatto ieri già vedete questa candela di pullback con l'ombra sotto quindi pullback per poi prendere un'estensione al rialzo sull'euro dollaro e questo sarà il scenario preferito per questa settimana quindi cercare estensione al rialzo comprare più vicino possibile a 1.1310 1.1300 quindi anche a prezzo del mercato adesso siamo 1.1316 non mi sembra male impostare uno stop loss per proteggersi sotto il livello di supporto quindi o sotto questa ombra per chi vuole uno stop loss magari un po' stretto questa è la prima ombra o magari sotto in mezzo a 30 40 pips della zona ok? Queste sono diciamo le possibilità per impostare lo stop loss l'entrata abbiamo detto sul livello di supporto il target sulla prima resistenza attenzione nel decidere il target per un long euro dollaro perché siamo solo passati long come dico per al corto termine ok? E appunto un secondo scenario sarà di sfruttare un scenario a questo punto più medio lungo termine sarà di sfruttare un diciamo un potenziale rimbalzo sulla resistenza per shortarla quindi scenario più lungo termine sarà di sfruttare semplicemente la prossima resistenza 14.20 quindi chi trada in settimana chi trada swing anche su una o due settimane può benissimo cercare di prendere il long sul supporto chi trada a lungo termine deve cercare l'entrata sempre ribassista e quindi a questo punto sul prossimo livello di resistenza su 14.20 questa è la mia idea per l'euro dollaro a questo punto impostate lo stop loss sopra la zona e come target al ribasso se vediamo appunto questo 14.20 questa settimana e vediamo una reazione ribassista target al ribasso abbiamo il livello 1.12 che sono comunque 220 pips e poi i minimi storici quindi l'euro dollaro per riassumere dicevamo da parecchie settimane è ribassista e noi vediamo di nuovo un'estensione al ribasso con la rotura di questi minimi non è successo nulla di questo scenario l'euro dollaro è passato diciamo ha rotto prima resistenza e adesso ha rotto anche la seconda resistenza motivo per cui cerchiamo in settimana dell'estensione al rialzo ma del tutto il contesto medio lungo termine non è cambiato e quindi bisogna anche eh in trading essere flessibile di mente e saper diciamo capire quando operare rialzo corto termine quando cercare entrate ribasso su medio lungo termine e qua avete un esempio clamoroso perché ci sta che l'euro dollaro fa una respirazione rialzista motivo per cui ripassiamo rialzisti giusto nell'arco di questa settimana della settimana prossima però sul medio lungo termine vi sembra veramente rialzista questo trend a me non tanto ovviamente se l'euro dollaro rompe questa prima resistenza uno quattordici venti e va subito sul secondo livello ve lo disegno adesso sul secondo livello che è questo qui quindi livello uno punto quindici cinquanta lì eh su rottura di quindici cinquanta dobbiamo passare per forza a medio termine e potenzialmente lungo termine rialzisti quindi in trading funziona così dovete trovare le zone chiave avere ovviamente il vostro scenario cioè questo è un trend ribassista questo è un trend rialzista quindi cerco dei long del short sul supporto sulla resistenza però un punto dovete dirvi c'è un livello dove eh se viene rotto questo livello se il mercato supera questo livello il mio scenario non è più valido dovete assolutamente avere un un livello che vi dà la conferma del vostro scenario quindi io avevo questa resistenza per scenario ribassista è stata rotta quindi sul corto termine cerchiamo dei long adesso non più dei short il secondo livello diciamo i due secondi livelli che ho per medio e lungo termine per darmi un'idea di come va il trend sull'euro dollaro e quindi eh come lavorare se lavorare sempre short o long nel medio lungo termine sono questi due quattordici venti e poi quindici cinquanta adesso non ci siamo quindi adesso siamo sempre nella configurazione dei long in settimana e per chi trada magari a tre settimane un mese cerca di shortare quattordici venti questo è il scenario per questa settimana su l'euro dollaro ovviamente se vediamo un euro dollaro che ripassa sotto questa eh questo livello di supporto l'euro dollaro che fa un salto sotto il livello di supporto ripassiamo ribassisti e dovete essere flessibili ok chi è rigido in trading di solito non va molto lontano dovete essere flessibili se ripassiamo sotto il livello di supporto tratteremo questa rottura come falsa e come un eccesso ok e quindi ci rimettiamo a lavorare al ribasso e quindi prendere il pullback sulla resistenza chi mi segue da un po' di tempo adesso capisce come funziona intorno ai livelli chiavi se siete principianti se il primo webinar che seguite rimanete diciamo nel scenario primario nel scenario di direzione del trend tutto qua per questo cross euro dollaro con la rottura della resistenza quindi potenzialmente su nfp e per i trade avvenire questa settimana continuo andando avanti e passo quindi al prodotto di cui vi parlavo prima nz di cad e guardate un po' cioè queste analisi tecnica ma da scuola questo è un caso proprio di scuola guardate un po' quindi livello di supporto rottura pullback che abbiamo avuto avevamo impostato il target target raggiunto molti di voi lo so hanno prese hanno preso un bel po' di profitti su questo supporto abbiamo detto sul supporto tradiamo semplicemente il pullback sulla resistenza guardate cosa ha fatto nz di cad precisamente ma precisamente pullback sulla resistenza e quindi meglio di questo mi sembra impossibile giusto qua rispettiamo ogni livello al punto preciso quindi ancora una volta complimento a chi ha tradato questa resistenza al ribasso complimento a chi ha preso lo short poi vedete con che velocità è disceso ma vedete questa questo swing ribassista partito con una velocità assurda molti di voi è la seconda volta che tradate la resistenza perché l'avete già tradata qui alcuni avevano perso questo primo trade e quindi hanno avuto la pazienza semplicemente di aspettare e vedete che il mercato vi ha dato una seconda opportunità quindi complimenti ancora chi è in corso su questo trade ripeto che il target al ribasso è questo qui quindi il prossimo supporto 086 84 allora lì c'è anche un altro discorso visto che abbiamo già fatto un test di questo supporto diventa sempre più probabile non altamente probabile però diventa possibile direi di vedere una rottura del supporto ok li stiamo un po facendo il scenario anticipato però io direi se voi siete entrati avete proprio l'entrata perfetta su questa resistenza e siete già dentro di 170 pips potete benissimo seguire il mercato con il vostro stop loss come dico sempre quindi bloccare dei profitti a misura che il mercato scende quindi se il stop loss era qui inizialmente sopra la resistenza poi lo potete muovere qua 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 e qua a misura che il mercato scende e accelera voi potete bloccare dei vostri profitti quindi così quando ci avviciniamo ci avviciniamo a questo livello di supporto potete anche stringere il vostro stop loss così se abbiamo un rimbalzo una respirazione se non uscite a take profit prendete semplicemente uno stop loss che vi assicura a questo punto la parte dei profitti che avete presi questo si chiama trailing stop loss non lo fate con la roba automatica della metatrader perché non ha nessun senso vedo gente che utilizza sapete la funzione di trailing stop di metatrader non so se visto che non la trovo perché non ho nessun trade aperto ma la funzione di trailing stop automatico sulla metatrader è inutile diciamola chiara perché dite alla piattaforma tu sposta il mio stop loss ogni 20 pips ogni 30 pips ogni 50 pips che il mercato va nella mia direzione però la piattaforma non è che abbastanza intelligente in modo di riconoscere se c'è un minimo un massimo ogni 50 pips vi scende praticamente lo stop loss automaticamente giusto quindi se prendete come in questo caso qui 50 pips in direzione poi un ritracciamento su un'ombra di 50 pips siete fuori su trading stop mentre il mercato poi continua a sparare al ribasso quindi perdete dei trading inutilmente quindi se volete far trading stop lo fate a chiusura delle candele e se spostate semplicemente lo stop loss sopra il massimo della candela ok qui 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 ad esempio quindi a chiusura della candela questa candela non ha chiusa quindi ancora il vostro stop loss dovrebbe essere qua sopra poi chiusura di questa candela giornaliera spostate di nuovo lo stop loss sopra il massimo così potete seguire un po il trend dicevo quindi ci avviciniamo a questo supporto e diventa quindi possibile la rottura di questo supporto ricordatevi quando nessuno vedeva questo livello quando l'abbiamo disegnato noi stessi non mi ricordo un mese fa un mese e mezzo fa eh potete vederlo sui replay che facciamo sul canale youtube naga academy quando abbiamo disegnato questo livello nessuno lo vedeva nessuno cioè era difficile eh vedere questo livello di supporto ma adesso che abbiamo già fatto un test del livello che ha funzionato molta gente lo vede questo livello almeno molta molta di più di quando non c'era questo minimo e quindi quando tanta gente vede lo stesso livello fidatevi non funziona mai in borsa è sempre così quando tutti vedono le stesse cose non funziona mai quindi adesso non sto dicendo che la rottura è probabile però dico che è una possibilità e ne parlo perché se qualcuno entra sulla resistenza su NZD CAD e ha il trade che corre vuole anche provare a fare un trade magari un po' più pesante giusto e quindi vuole anche magari dare la possibilità a NZD CAD di rompere questa prossima eh di questo prossimo supporto scusate non resistenza supporto quindi a questo punto potete provare cioè potete provare a non impostare take profit su supporto ma cercare dare la possibilità al mercato di fare una rottura sempre nell'ottica di prendere un swing più pesante cioè un trade che vi porta più profitti a casa e quindi il target al ribasso che potete avere ci sono due target un po' più ambiziosi direi un primo target in questa zona zona 0 84 80 e poi anche un secondo target che è praticamente il minimo del mercato per chi vuole veramente provare a fare un trade lungo termine stessa cosa se non impostate i take profit assicuratevi di seguire il mercato con il vostro trailing stop ok quindi a misura che il mercato accelera voi seguite semplicemente il mercato e bloccate parte dei vostri profitti così se il mercato inverte avete assicurato qualcosa spero che questo concetto sia chiaro complimenti ancora a chi ha tradato questa resistenza perché non basta io il lavoro facile ok io vi do le zone chiave vi dico per shortare per essere long questa è la zona da utilizzare però il lavoro duro lo fate voi perché alla fine chi prende il rischio chi si mette in gioco sul mercato siete voi giusto che spingete il bottone per comprare o vendere quindi io faccio sempre i miei complimenti perché è sempre una presa di rischio far trading ok una presa di rischio controllata però a un punto c'è qualcuno che lì su questa resistenza è entrato ha messo il pendente o è entrato al mercato quando ci siamo andati e c'è sempre chi non è entrato quindi io faccio sempre i miei complimenti a chi è entrato e soprattutto a chi è ancora in corsa chi sta ancora dentro perché chi entra su questo livello ma chiude subito perché ha paura perché vede che il mercato non fa precisamente quello che vuole perché non lo so per qualsiasi motivo emotivo appunto per motivo diciamo di una psicologia un po' un po' debole è un problema non potete chiudere i trade subito dovete lasciare la possibilità al trade di diventare un profitto grosso i trade che partono bene lasciatele correre per favore non chiudete i profitti troppo velocemente e lo sbaglio che fanno la maggior parte dei principianti ed è il motivo per cui su tutti i siti dei broker lo vedete anche sul nostro non so se lo vedete se andate sul sito nagamarkets noi rilasciamo anche per motivi di regolamentazione siamo obbligati a rilasciare la percentuale di investitori che vincono e perdono con ogni broker ogni broker regolamentato è obbligato a fare questa cosa vedete con nagamarkets 79% dei trader perdono 20% guadagnano ora non vi faccio un disegno ma il 20% dei trader che guadagnano sul mercato è gente che riesce semplicemente a lasciare i profitti correre la gente che perde e la gente che appena vede un profitto di 10 pips 10 20 pips chiude subito mentre la perdita la lascia correre e quindi va fatto completamente il contrario chiudo questa parentesi questo è il scenario quindi ribassista per entenza di cad complimenti ancora che ha tradato potete aspettare quindi rottura del supporto per un trade che potenzialmente continua e cercare estensioni ribassiste verso 0 84 80 e poi 0 83 20 e quindi vi farà un trade sul primo supporto 230 pips il secondo supporto 430 e sul terzo 580 pips trade assurdi ne fate due così nel mese siete a posto a livello di performance chi vuole entrare long su nz di cad contrarian aspetta semplicemente il prossimo supporto e entra long ok questo è il scenario contro trend non è il scenario preferito però devo darlo ugualmente quindi questo è il scenario diciamo un po contrarian che potrebbe anche succedere non sappiamo cosa succederà nessuno legge il futuro può succedere di tutto e di più sul mercato non ho la pretensione assoluta di leggere il futuro questo va detto quindi potremmo anche avere un nz di cad che rimbalza semplicemente sul supporto 0 86 80 e poi si installa in un range tra questi due livelli e anche una possibilità quindi scenario contrarian essere long sul supporto tutto qua per questo prodotto va davanti continuo con i prodotti forex rimaniamo sul mercato valutario e passo alla sterlina abbiamo visto questa settimana c'è Mark Carney che eh che parla fa il suo speech in un contesto un po' teso di Brexit nel senso Brexit e elezioni soprattutto nel Regno Unito ma elezioni che saranno un po' chiave per eh ovviamente la risoluzione del discorso Brexit quindi la sterlina cosa ha fatto da settimana scorsa la sterlina ha rintracciato un po' cioè ha fatto una respirazione non abbiamo non siamo andati fino alla resistenza chiave uno ventotto quattordici quindi a differenza dell'euro c'è una differenza notevole la debolezza della sterlina che vedete quando l'euro rompe il suo supporto la sua resistenza scusate a volte confondo quando l'euro rompe la sua resistenza la sterlina cosa fa per fare un paragone la sterlina non fa niente cioè è molto molto debole e quindi sulla sterlina a differenza dell'euro rimaniamo ribassisti anche a corto termine ok e quindi il scenario ribassista è sempre in corso chi era entrato sul pullback su questa resistenza deve ancora essere dentro a meno che non è stato uscito su trading stop intorno a questa questa respirazione quindi scenario ribassista sempre in corso prossimo supporto uno ventiquattro settantasette e un prezzo potenziale dove entrare long sulla sterlina ne avete due avete una zona veramente corto termine questa qui zona 27 46 per chi vuole entrare abbastanza aggressivamente quindi a questo punto cercate una sterlina che ritorna su uno ventiquattro uno 27 47 per poi prendere un'estensione ribassista questo è un scenario possibile questa settimana ma direi il livello più sereno per entrare short è questo livello di resistenza giusto quello che già molti avevano tradato su questo pullback e qua ci troviamo un po' se guardate davanti allo stesso tipo di setup che avevamo su nz di cad giusto nz di cad era un supporto rotto un primo test di resistenza poi secondo test sulla resistenza e quella stessa cosa sulla sterlina avete una prima una prima rottura con un primo pullback sulla resistenza e qua sarebbe quindi se lo facciamo ovviamente un secondo test della resistenza e quindi si può ovviamente shortare perché siamo sempre ribassisti sulla sterlina short stop loss sopra la zona take profit uno ventiquattro settanta minimi precedenti questo è un trade possibile sulla sterlina quindi il livello più sicuro ripeto è la zona in arancione chi vuole tradare più aggressivamente chi pensa che la sterlina non andrà fino alla zona di resistenza ventotto può tradare quindi sulla prima resistenza 27 47 27 50 lo stesso è un scenario ribassista fino a 24 70 questa è la zona e l'obiettivo medio termine per sterlina dollaro mentre il scenario long su sterlina dollaro quindi per entrare più contro trend direi non è cambiato niente dovete aspettare quindi prossimo supporto se volete entrare long contro trend sulla sterlina dovete aspettare per forza questo prossimo livello chiave 24 70 o magari anche uno venticinque non è non siamo a venti pips più o meno questo per il cable verifico ripeto se avete domande non esitate chiedete pure nel pannello della chat del webinar tutto qua quindi per la sterlina short 28 20 o perché vuole mettersi contro trend aspetta magari il supporto 24 70 continuo ad andare avanti sempre sul mercato valutario rimaniamo passiamo a euro nzd euro nzd un altro mercato che è andata abbastanza bene da settimana scorsa dicevamo scenario preferito o scenario di rottura della resistenza oppure comprare il supporto tanto e tutto al rialzo abbiamo avuto quindi un test perfetto del supporto ok e abbiamo avuto anche un piccolo eccesso sotto il supporto piccolo un eccesso di 40 pips motivo per cui dico sempre non stringete di stop loss perché vi potete far uscire facilmente con un'ombra di questo genere quindi dopo questa questo piccolo eccesso abbiamo salvato il supporto e euro nzd è ripartito a bomba al rialzo quindi complimenti a chi è entrato long su questo livello disegnato da noi da qualche settimana siamo adesso sulla resistenza precisamente e sembra che euro nzd sta per darci la rottura speriamo vediamo oggi in fine giornata o domani se validiamo la rottura di questa resistenza di questa zona di resistenza fino a 1 71 85 se validiamo questa rottura vi ricordo che validiamo anche un doppio minimo enorme su un grafico settimanale su euro nzd doppio minimo una volta validato potrebbe portare il cross a un obiettivo teorico sopra i massimi precedenti e quindi un trade ve lo dico subito di più o meno 750 800 pips ok perché il target teorico di questo doppio minimo è molto più alto molto se prendiamo l'altezza la riportiamo ci da un target a 1 80 71 ok quindi sono 168 pips più in alto rispetto al massimo precedente ne parlo di un po di da un po di settimane questi di questo doppio minimo chi è entrato sul supporto ovviamente ha fatto benissimo perché sta nella migliore posizione possibile prima della rottura del della resistenza siete entrati qui potete anche impostare e stringere vostro stop loss al prezzo d'entrata adesso e dovete solo aspettare vedere quindi siete con già 220 pips presi e siete bellissimi cioè siete sereni siete tranquilli se volete chiudere sulla resistenza chiudete il trade tanto avete incassato quasi 210 a secondo dove siete entrati più di 200 pips potete anche chiudere portare a casa i profitti però non sarei non sarebbe il scenario preferito perché visto il doppio test di questa resistenza io direi che giocare la rottura è interessante a questo punto quindi dare la possibilità a euro nz di rompere questa resistenza per fare un trade poi potenzialmente di 940 pips ripeto se fate uno o due trade a 900 pips l'arco del mese anche anche diciamo nell'arco dell'anno ne fate 10 così e siete a posto ok immaginatevi se impostate stop loss a 50 60 pips e prendete un target del genere se questo trade va bene prendete un target del genere a 900 pips quanti stop loss di fila potete prendere una marea e quindi anche nel vostro trading quando riuscirete ad avere per chi non è ancora riuscita ad arrivare a questa a questo passo della del trading diciamo nella gestione della strategia di trading quando riuscite a prendere un target del genere un trade che uscite con 700 600 pips di profitto vi dà una serenità per quanto riguarda il vostro trading che non potete immaginare perché poi non vi preoccupate più delle perdite non siete più stressati eh dalla perdita e cominciate più a vedere la perdita come appunto il costo dell'operatività e lo ripeto i stop loss sono il costo dell'attività di trading alcuni di voi mi diranno no il costo è lo spread di voi broker e vi dirò lo spread è semplicemente il nostro guadagno ma è ridicolo lo spread guardate con che spread operate cioè parliamo di spread che sono ridicoli parliamo di un pip parliamo di un meno di un pip per chi ha gli spread ridotti sull'euro dollaro quindi non mi parlate di un costo di 0.8 pips sull'euro dollaro quando potenzialmente vi sto parlando di un target di 940 pips ok quindi lo spread eh gli swap questo non è il costo dell'operatività di trading il vero costo dell'operatività di trading sono i stop loss dovete prendere per forza dei stop loss per operare perché dovete sempre impostare uno stop loss sui vostri trade perché non sapete dove va il mercato ok non prendete il rischio di farvi trascinare eh spesso è un è anche un secondo sbaglio che fanno i trader privati i trader principianti non impostano stop loss quindi poi quando il mercato va contro di loro non sanno dove chiudere e poi si mettono in modalità speranza come la chiamo quindi si mettono a pregare e si mettono a vedere il mercato che ritorna indietro giusto è il mercato purtroppo quando magari ogni tanto ritorno il mercato e quindi possono anche chiudere a zero o un po' in profitto però la volta che il mercato non ritorna dite addio al vostro conto trading perché non si ferma quindi sempre nelle logiche di trend ehm impostate sempre dei stop loss non sapete fino a dove il mercato può arrivare né nella perdita né nel profitto la logica è la stessa ok pensate sempre qua ci sarà un sacco di gente short su questa resistenza pensate sempre a quello che dall'altra parte quindi noi adesso abbiamo un scenario rialzista vi posso assicurare che molti 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 trader privati istituzionali molti sono short intorno a questa resistenza sono entrati tutti short qua sono entrati short nuovamente sul secondo test e ci sono c'è una marea di interesse short in questa intorno a questa resistenza questa gente chi ha i stop loss ha i stop loss sopra il livello giusto quindi i stop loss che sono ordini buy a questo punto la gente short quindi lo stop loss di una persona che è short è un ordine buy quindi abbiamo un potenziale di ordini buy sopra la resistenza abbastanza forte motivo per cui dico se rompiamo la resistenza acceleriamo subito questo è un fenomeno meccanico tecnico del mercato giusto e per questo che le rotture fanno sempre accelerare il mercato quando vedete un mercato che rompe su una notizia o no vedete sempre un'accelerazione perché becca tutti i stop loss in un colpo e quindi accelera il mercato ma pensate un po' a chi è short e chi non ha messo lo stop loss vi posso assicurare che ce ne sono molti sicuri ce ne sono sempre che sono short contro trend senza stop loss quando chiudono queste persone non riesce non riusciranno a chiudere quindi si faranno soffriranno misura a misura cioè passo a passo che il mercato accelererà queste persone soffriranno la perdita diventerà sempre più grande fino a un punto dove prenderanno lo stop out sotto 50% di margine del loro conto quando queste persone prenderanno lo stop out chi è entrato su questo supporto raddoppia il suo conto quindi pensate sempre a le persone che sono dall'altra parte pensate sempre a non fare gli sbagli che alcuni fanno tutto qua per euro nzd ci sono c'è una domanda di marco marco mi dice volevo chiedere quanto costa lo swap su questo cross rispetto alle copie principali quando vengono adebitati di overnight del weekend grazie marco spiego tutto adesso è una benissima domanda per vedere il costo dello swap di ogni prodotto su metatrader impostatevi su la vista del mercato io ce l'ho in inglese ma chi ce l'ha in italiano ha scritto vista del mercato tasto destro sul prodotto e poi fate specificazioni esce questa finestra dove avete praticamente tutte le specificazioni di questo contratto e dove anche trovate lo swap ok quindi swap long meno 17 swap short 5.29 questi sono i vostri swap e sono espressi ovviamente in pips per lotto mi dice marco ma se accelera a rottura è meglio è meglio entrare subito nell'aspettare il pullback giusto marco io direi di no anche perché se tu non sei entrato marco sul supporto che davamo settimana scorsa su questo 69 64 adesso non ti trovi nella miglior situazione è per questo che abbiamo dato questo supporto per entrare perché era il scenario migliore adesso se non sei entrato nel scenario migliore marco io direi di aspettare comunque il pullback perché cioè io funziono così preferisco avere il set perfetto piuttosto che entrare a un prezzo che diciamo non è favorevole io direi se rompiamo la resistenza aspettate sempre il pullback anche perché la rottura non sai cioè non sai fino a dove può rompere il mercato tu per valida la rottura marco per avere una rottura valida di questa resistenza devi aspettare assolutamente la chiusura di questa candela ok della candela giornaliera senza chiusura della candela giornaliera non puoi sapere se il livello è rotto o meno perché perché ci possono essere benissimo delle ombre cioè un mercato che arriva rompe temporaneamente in giornata e poi ritorna giù e vi forma un'ombra sopra il livello questo si chiama il solito bull trap la trappola rialzista per evitare la trappola rialzista dovete aspettare la chiusura della candela giornaliera per validare la rottura quindi se la candela giornaliera marco se la candela giornaliera chiude qui tu entri a 173 05 cioè entri a 133 pips del livello entri molto tardi questo punto una minima respirazione del mercato e soffri di parecchio per quello dico non entrate sull'accelerazione o dopo la rottura inutile aspettate semplicemente il pullback se non succede il pullback pace aspettate il prossimo trade su un altro un altro mercato o anche su questo mercato stesso ma il scenario ideale per chi non è entrato su questo supporto long e quindi scenario di rottura rottura poi pullback per prendere l'estensione rialzista e a questo punto marco se tu sei un po furbo non aspetti veramente il pullback nella zona precisa vedi che se euro nzd rintraccia fino a 172 ti può andar bene può entrare anche long ci siamo capiti quindi questi sono i due scenari per euro nzd cioè scenario long perché è un scenario in direzione del trend complimenti ancora chi ha tradato long su questo supporto adesso siete in corso e avete questo target al rialzo quindi 178 179 livello psicologico altro scenario di rottura quindi rottura pullback e poi accelerazione rialzista mentre chi vuole shortare euro nzd contro trend famosa gente contrarian di cui parlavo prima deve shortare la resistenza adesso giusto perché siamo in zona resistenza è la vostra unica possibilità di shortare per favore impostate sempre uno stop loss anche se siete trader contrarian e a questo punto potete giocare su due livelli direi al ribasso avete il primo supporto 169 64 per il vostro target oppure un altro livello un po più in basso direi questa questa zona non me l'ho disegnata come volevo scusate questa zona zona 1 67 che è quindi due target possibile per chi entra short su questa resistenza ma ripeto non è assolutamente lo scenario preferito scenario preferito è un scenario long quindi scenario di rottura per questa settimana tutto qua per euro nzd e continuo passo a magari un'altra set class vediamo velocemente l'oro vediamo l'oro che si è fermato quindi sulla resistenza con un piccolo eccesso al rialzo sopra la resistenza eccesso di qualche dollaro quindi eccesso fino a 1347 mentre la zona di resistenza era 1344 sul lato superiore un piccolo eccesso una piccola ombra e siamo abbiamo cominciato poi una piccola respirazione ribassista adesso tradiamo 1322 il scenario è sempre long ci siamo ci siamo solo fermati sulla resistenza che è completamente normale ripeto che il mercato non va da punto a a punto b in linea dritta e quindi prossimo trade possibile su loro semplicemente comprare il supporto giusto questo supporto 1307 è un possibile una possibile entrata long per chi vuole entrare quindi a questo punto sfruttate la respirazione dell'oro se arriva fino al prossimo supporto entrate long sul supporto stop loss sotto il supporto date sempre spazio e poi giocate su un'estensione rialzista o take profit sul prossimo livello di resistenza 1341 oppure magari trading stop e cercate di seguire un potenziale trend che parte da questo livello queste il scenario rialzista per il mercato dell'oro x au usd in piattaforma chi vuole shortare l'oro o chi è entrato short contrarian contro trend su la resistenza vi è andato bene direi che per vedere una continuazione di questo short dobbiamo vedere la rottura di questo supporto e a questo punto un scenario di questo tipo rottura pullback potenziale poi accelerazione ribasso questo è scenario per chi vuole shortare diciamo quel mercato dell'oro contro trend anche nonostante la reazione le respirazioni ci stanno ma non vuol dire che inverte il contesto del trend del mercato l'oro adesso è passata chiaramente rialzista e poi vedete con che velocità siamo passati rialzisti abbiamo avuto una serie di candele nella salita che sono candele molto veloce quindi c'è volatilità c'è momentum su questa su questa salita dell'oro quindi ci hanno preferito comprare semplicemente il supporto 1308 per questa settimana su x au usd continuando passo faccio il petrolio visto che siamo nelle commodities do un'occhiata al petrolio petrolio sempre ribassista se petrolio quindi che si è fermato sul supporto qualche venditore ha chiuso qualche compratore è entrato adesso il petrolio ha segnato quasi un pullback in zona della seconda della prima resistenza 55.20 si è fermato un po' prima con questo gap all'apertura ieri e adesso quindi siamo sempre bloccati tra 55.23 in zona di resistenza e il primo supporto 51.35 rimaniamo fattuali ok non c'è nessun motivo di invertire diciamo il nostro scenario ribassista il petrolio è sempre ribassista corto medio e lungo termine quindi shortare la prossima resistenza mi sembra la cosa più intelligente da fare aspetta un petrolio che ritorna magari in zona di resistenza o vicino per scattarlo short e continuare a seguire questo trend ok stessa cosa dell'oro lo vedete un trend veloce anche sul petrolio abbiamo avuto ricordo serie di rotture di livelli chiavi dopo rotture la prima la seconda la terza quindi una respirazione adesso ci sta benissimo il primo livello di resistenza è questo 55.20 naturalmente è l'opportunità più pulita per shortare target al ribasso avete un primo target sul minimo precedente 51.38 per chi opera magari in settimana e chiude tutto il venerdì sera per chi opera magari più a lungo termine avete il secondo target al sul minimo precedente 42.70 e cominciate a trovare una diciamo una coerenza nelle mie analisi nel senso che imposto sempre per chi vuole un target molto lontano un target molto ambizioso e vi posso assicurare che tra tutti i trade che abbiamo eh dati cioè nzd cad poi c'era anche nzd adesso il petrolio ma ci sono molti trade dove il target lontano sarà raggiunto vi assicuro che dieci per cento dei vostri trade statisticamente raggiungeranno il vostro target lontano c'è il target ambizioso che avete a ottocento settecento pips quella è matematica dovete solo avere la forza eh nel 90 per cento dei vostri trade di seguire il mercato magari con un trailing stop e eh e di tenere quelle posizioni aperte ok nonostante la frustrazione quando il mercato inverte e perdete magari un po' di punti ma dovete avere questa meccanica e questa forza psicologica di lasciare i vostri trade aperti quindi ripassando al petrolio target quindi secondo target ribassista 42.86 primo target ripeto 51.30 minimo precedente per questo short in direzione del trend chi vuole comprare il petrolio chi vuole comprare contro trend perché pensa che non so cosa penso onestamente eh però chi vuole comprare questo petrolio deve comprare quindi il prossimo supporto entra long imposta lo stop loss sotto la zona chiave questo è il scenario contrario il scenario che non mi piace il scenario contro trend e ha un primo target al rialzo quindi sulla prima resistenza 55.30 ma anche magari su 58.0 questo è il vostro scenario long per il petrolio continuiamo ci sono domande vediamo alcune domande mi ricordo che c'era una domanda di Pasquale che ci ha fatto direttamente sul canale youtube sulle cripto e quindi ci risponderò durante questo webinar direttamente quando passiamo alla parte cripto finisco con euro yen che mi sono dimenticato euro yen e facciamo un paragone anche con euro yen euro dollaro euro yen stessa cosa dell'euro dollaro ma con più forza e più velocità cioè quando l'euro dollaro ha rotto il suo livello di resistenza chiave e abbiamo detto ripassiamo rialzista ma la rottura dell'euro dollaro era 40 pips se non sbaglio siamo sì neanche cioè 30 pips per la rottura sul massimo euro yen guardate con che forza ha rotto quindi euro yen ha rotto con molta più forza siamo su 56 pips per la rottura ok un cross molto più volatile rispetto a euro dollaro però vediamo comunque c'è un momento un rialzista un po più forte su euro yen rispetto a euro dollaro dobbiamo ripassare rialzista su euro yen non penso proprio anche perché abbiamo la resistenza chiave che già molti hanno tradato una volta e due volte qui in zona 123.65 quindi possiamo sfruttare il prossimo test della resistenza per shortare su euro yen vedete il trading è semplice un livello chiave la direzione del trend primario e basta potete prendere la vostra decisione quindi short resistenza 123.70 stop loss sopra la resistenza questo è il primo scenario possibile scenario ribassista e quindi impostare il vostro target su 120.70 oppure sul livello intermediario questo qui sull'eventamento 122.14 chi vuole fare un trade ancora più ambizioso un trade ancora più a lungo termine a questo secondo target o terzo in questo caso target teorico a ribasso 118.90 zona 119 e questo è il vostro primo scenario per questo per questa settimana su euro yen shortare la resistenza 120.60 ricordo cercate di avere uno stop loss in questo caso lo vedete questo gap zoom un po così tutti lo vedono vedete questo gap che abbiamo lasciato aperto su euro yen mercato ha fatto un gap e non l'abbiamo mai chiuso completamente questo gap cercate quando vedete un gap del genere vicino al vostro stop loss di mantenere lo stop loss sopra il gap perché il mercato ama chiudere i gap ok quindi se il gap è qui mantenere lo stop loss un po sopra è una cosa intelligente anche se vi da uno stop loss a 80 pips potete impostare i target in modo che sia tutto profittevole cioè il secondo supporto qua è 300 pips 280 pips quindi a livello di rapporto rischio guadagno siamo siamo tranquilli 80 pips di stop loss rischio per 280 di profitto su questo livello va benissimo per il secondo ancora meglio 480 perfetto quindi scenario ribassista su euro yen mentre il scenario rialzista su euro yen chiudo un po di cose scenario rialzista è ovviamente una continuazione di questa respirazione che diventa quindi poi che fa passare euro yen a corto termine rialzista con la rottura di questa resistenza con la rottura di 123 70 e la chiusura della candela sopra questa zona ripassiamo rialzisti a corto termine su euro yen e quindi a questo punto scenario è di questo tipo e cercate di entrare su rottura e pullback del livello questo è l'altro scenario per questa settimana per chi vuole cercare di entrare long piuttosto non è assolutamente scenario preferito meglio cercare di shortare la resistenza in direzione del trend finiamo qui quindi per abbiamo fatto tutte le valute che volevo fare quelle che faccio ogni settimana abbiamo fatto le commodities che mi interessano rimangono due asset class perché è importante anche diversificare è importante operare su mercati che non sono correlati la correlazione può essere un problema se avete un trade su euro dollaro un trade su euro yen siete due volte sull'euro giusto quindi avete una correlazione forte del vostro portafoglio all'euro e quindi un rischio maggiore cercate sempre di impostare anche dei trade su mercati non correlati un mercato non correlato può essere quello degli indici quindi do un'occhiata al nasdaq al nasdaq dove ci aspettavamo settimana scorsa una rottura ribassista e una continuazione di questo inizio di treno ribassista verso il prossimo supporto niente il nasdaq ha salvato questo supporto seimila supporto dei settemila possiamo dire ehm i compratori si sono presentati i venditori hanno chiuso e quindi il nasdaq è ripartito al rialzo movimento fortissimo poi vedete la candela su NFP eh di settimana scorsa candela di rottura bella chiara e quindi un nasdaq è ripassato ovviamente al rialzo corto medio lungo siamo rialzisti sugli indici ok e quindi adesso il nasdaq sta andando pian piano verso la prossima resistenza che era anche i massimi storici sugli indici americani e abbiamo un livello intermediario in mezzo qua eccolo qui questo livello intermediario sul nasdaq allora per entrare long sul nasdaq in direzione del trend eh sarà un po' difficile perché il primo supporto è abbastanza lontano e qui il primo supporto la prima resistenza è questa qui quindi operate quindi su rottura e pullback della prima resistenza per poi cercare un'entrata al rialzo in direzione del trend oppure cercate quindi eh una potenziale respirazione del nasdaq verso il supporto che è poco probabile a questo punto visto la velocità del trend però eh diamo comunque questa possibilità e questo scenario è difficile adesso entrare long sul nasdaq anche perché è già partito il movimento giusto lì hanno avuto ragione quelli che sono entrati contra arian su questo livello di supporto quindi hanno preso e hanno beccato il minimo complimenti a loro non è assolutamente eh non era un brutto trade solo che era un trade contro trend quindi una volta ogni tanto il trade contro trend vi dà ragione perché beccate proprio il minimo ricordatevi un massimo ce n'è uno un minimo ce n'è uno in mezzo a questo massimo e questo minimo quanti falsi minimi quanti falsi minimi giusto per quel motivo eh i trade i trader che cercano sempre di beccare il minimo una volta ogni tanto hanno ragione però eh meglio aver torto una volta su questo su questo supporto e ragione eh più volte piuttosto che aver ragione solo una volta ed avere poi difficoltà a cercare dei minimi falsi nel trend giusto per quel motivo sono sono assolutamente contro ogni strategia contra arian e quindi per nasdaq adesso ripeto tutto a rialzo i livelli sono quelli per entrare long anche se mi sembra abbastanza difficile chi vuole entrare short contrarian a questo punto sul nasdaq può shortare o questa prima resistenza settemila seicento o il massimo storico è un trade contro trend è un trend che non mi piace ormai avete capito finisco con il bitcoin e le criptovalute e quindi vediamo un po' eh il bitcoin è bloccato quindi in mezzo a resistenza ottomila e trecento e il primo supporto settemila e sempre eh rialziste il bitcoin e questo è il primo supporto dove possiamo potenzialmente comprare quindi scenario da settimana scorsa non è cambiato cercare di comprare più vicino possibile a settemila e trecentocinquanta per giocare e cercare delle estensione rialziste su questo bitcoin su questo punto l'entrata è sul supporto lo stop loss va impostato sotto ok bitcoin è molto volatile quindi quando impostate il vostro stop loss ricordatevi della volatilità intrinseca del bitcoin in bitcoin è un mercato che vi fa questo tipo di candele da otto mille e quattrocento fino a settemila e quattrocento quindi un mercato che può prendere o perdere o prendere benissimo mille dollari in giornata quindi questo eh ve lo dovete ricordare averlo diciamo nella mente quando impostate il vostro stop loss date sempre spazio al bitcoin non tradate con stop loss troppo vicino perché il bitcoin vi sanziona subito il scenario ribassista invece per il bitcoin sarebbe oggettivamente di shortare semplicemente la resistenza ok questo è il scenario contro il trend e quindi a questo punto short resistenza stop loss magari sopra i massimi per prendere eh potenzialmente qualcosa al ribasso per chi ama questo tipo di trade ma le cripto si sono riprese cioè se facciamo un contesto sulle cripto ehm si sono riprese quasi tutte hanno sviluppate tutto l'inizio di un trend rialzista e quindi sono sono quasi tutte passate rialziste a corto e medio termine adesso manca diciamo direi la la spinta finale per rompere magari questo questo livello su bitcoin livello novemila e settecento e poi il prossimo livello undicimila settecento questo è il livello che utilizzo per giudicare il trend a lungo termine su bitcoin quindi manca un'ultima spinta diciamo da questo di questo trend rialzista per le cripto per confermare diciamo il cambio da ribassista a lungo termine fino a rialzista a lungo termine e risponderò quindi adesso colgo quest'occasione per rispondere alla domanda che mi ha fatto Pasquale sulle cripto Pasquale mi domandava se c'è una correlazione tra tutte le diverse cripto cioè gli altcoin come vengono chiamati quindi litecoin neo ripple dash e i movimenti del bitcoin cioè detto in parole semplici mi diceva ma quando il bitcoin accelera del 2% possiamo dedurre che automaticamente c'è una correlazione quindi gli altcoin come come litecoin come neo come altri accelerano seguendo il bitcoin con una percentuale che sia diciamo funzione dell'accelerazione del bitcoin allora prima di tutto una correlazione c'è assolutamente il bitcoin agisce più o meno soprattutto in questo periodo come driver del mercato delle cripto infatti è il mercato che se guardate tutte le cripto è il mercato che è più forte in questa salita il bitcoin è quello che ha ripreso più terreno dai minimi rispetto alle altre cripto quindi è quello che tira al momento tutte tutte le cripto e ricordatevi anche che le cripto essendo un asset class vera e propria ovviamente ritroviamo le stesse caratteristiche rispetto agli indici raramente vedete gli indici americani che si muovono a livello contrario nel senso se vedete lo S&P 500 che prende 5% in giornata ovviamente il Nasdaq accelera pure perché c'è una correlazione forte il sentimento degli investitori sull'indici è più o meno lo stesso cioè il sentimento si dice è armonizzato quando gli investitori sul Nasdaq sono felici e c'è euforia comprando Nasdaq giusto? Ed è la stessa cosa per gli investitori sulle S&P 500 su Dow Jones quindi diciamo che l'asset class azionaria gli indici si muovono e c'è una correlazione forte ma per questo motivo del sentimento degli investitori che è più o meno lo stesso i mercati si muovono sempre più o meno nella stessa direzione non vedrete mai o raramente vedrete lo S&P 500 che crolla lo Nasdaq alle stelle e il Dow Jones alle stelle non esiste non esiste possibile non mai dire mai però raramente lo vedete ed è la stessa cosa per le cripto il sentimento degli investitori in cripto è più o meno lo stesso un investitore cripto su Bitcoin compra Bitcoin nel stesso momento in cui un investitore su Litecoin compra Litecoin adesso perché hanno quindi dei movimenti che sono diversi? ma semplicemente perché sono mercati diversi come l'azionario, come tutti i mercati quindi il Litecoin può prendere 10% in giornato quando il Bitcoin ne prende 2 ma possiamo fare una relazione matematica tra queste due cifre? assolutamente no assolutamente no c'è una correlazione però non possiamo dire ah quando il Bitcoin si muove del 2% allora una regola matematica il Litecoin si muove di 10 assolutamente no c'è una correlazione le cripto si muovono insieme perché è la stessa asset class perché il sentimento degli investitori dei trader di cripto è lo stesso però non possiamo dedurre nessun tipo di di formula matematica con una correlazione tra Bitcoin e Altcoin quindi questa è la risposta che volevo dare a Pasquale e spiegarvi magari anche qualcosa sul sentimento degli investitori in borsa ed è anche per quello che si parla sentite molto spesso parlare del mercato in generale dei mercati che sono risk on o risk off lo vedrete se guardate un po' le news su internet se guardate un po' la tv della borsa non so Bloomberg o CNBC spesso si parlano quando le persone commentano i mercati dicono i mercati oggi sono risk on e quindi da questo fatto si intende che gli investitori vanno tutti a ricercare degli asset rischiosi quindi comprano indici comprano valute tipo euro, sterlina o a volte sentite parlare del mercato che è risk off e quindi si parla di un sentimento dell'investitore quindi che vendono indici e poi comprano asset che sono giudicati poco rischiosi tipo yen, dollaro o oro anche fino a un certo punto e quindi queste sono più o meno le meccaniche tecniche che esistono sul mercato tutto qua per oggi spero che Pasquale ti ho risposto quindi per chiudere questo webinar ricordatevi di seguire quindi i trade che abbiamo diciamo preimpostati ricordatevi chi è entrato su alcuni trade in settimane passate sta ancora dentro avete il coraggio di lasciare questi trade aperti perché sono quelli che vi porteranno la performance sul vostro portafoglio è fondamentale lasciare i profitti correre nel tempo seguite quindi assolutamente la rottura del livello resistenza su euro NZD per validare questo doppio minimo seguite anche magari il petrolio su questo pullback di resistenza il pullback sull'euro insomma tutto quello di cui abbiamo parlato ricordatevi che ci sono tre eventi maggiori sul calendario economico con spigi di draghi, carni e poi c'era anche il CPI l'inflazione in Cina come al solito vi ringrazio sempre di essere più numerosi per questi webinar mi fa tanto piacere vedere che ogni settimana siamo sempre più numerosi a seguire questi webinar e quindi vuol dire che il lavoro che facciamo vi aiuta e questa è la cosa fondamentale ricordo che questi webinar sono a scopo educativo quando diamo un livello non è assolutamente una sollecitazione di investimento un consiglio all'investimento ma è tutto a scopo educativo il mio obiettivo è di impararvi di darvi diciamo una meccanica di intervenzione cioè una meccanica identificare il trend identificare il primo livello chiave e poi impostare gli ordini in funzione del trend e del livello chiave decidere in trend di bassista shortare la resistenza in trend di rialzista cercare il long sul supporto chiaramente vi diamo una mano per identificare i vostri livelli chiavi per ogni settimana ripeto avete i vostri livelli cercate di prendere un grafico tutto pulito e cercate di impostare i vostri supporti le vostre resistenze poi fate paragoni con quelle che ho io così magari migliorate diventate sempre più patroni di questo strumento e sempre più patroni delle vostre strategie grazie ancora l'ultima cosa che voglio segnalare segnalare a tutti settimana prossima dovremo anticipare il webinar di un'ora quindi invece di essere alle undici e mezza orario italiano il webinar di settimana prossima sarà alle dieci e mezza orario italiano lo dico perché a volte non è facile capire anche l'orario visto che sul sul portale Enaga quando vi registrate vi dà l'orario GMT voi siete in Italia vi fate sempre calcoli ma visto che l'abbiamo sempre fatto alle undici e mezza dico solo per settimana prossima sarà alle dieci e mezza orario italiano anticipato di un'ora tutto qua grazie ancora buona settimana e buon trade arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti